E' un'esperto, potrei aspettare 3-4 volte al minuto, ed è fatto interamente a mano, un'opera interamente artigianale, frutto appunto di grande esperienza a livello dell'artigianato. Un'opera che lei ha realizzato per questo evento o viene utilizzata anche in altre occasioni? No, questi cannoni li ho fatti io artigianalmente perché comunque vengo dalla bottiglia paterna di mio padre, lui è un artigiano del ferro battuto, e quindi mi sono cimentato a rendere il mestiere un po' più particolare, dargli un po' dell'arte a quello che è appunto il mestiere del ferro battuto. Essendo appunto che opero anche con questa compagnia di rievocazione storica, ho fatto questi pezzi in occasione di queste manifestazioni, di questi voltei. Dopo qua li abbiamo visti anche in funzione, ovviamente non sparano per una questione di sicurezza e di ordine pubblico, però sparano fuoriandoli, quelli sì. Assolutamente, sono caricati a salve con una piccola percentuale di polvere nera, però sono del tutto in novo, quindi colpa a salve non succede niente. Complimenti. Grazie a te. Grazie a te.